La rinascita dei territori, tema di un convegno dei giorni scorsi, ma anche obiettivo delle terre dei comuni della Valle del Belice che puntano alla economia turistica e alla valorizzazione dei beni materiali e immateriali dei paesi e della comunità della valle. Il progetto Terre della Valle del Belice è un tavolo permanente che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati sostenuto dal GAL Valle del Belice. E allora penso che il GAL possa recitare una parte importante in questa Valle del Belice che verrà, in questa Valle del Belice del futuro. Un vero e proprio progetto di cooperazione volto alla creazione di un piano di marketing territoriale, un network locale di micro imprese orientato alla creazione di pacchetti turistici e alla messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi legati al turismo enogastronomico. In questi mesi sarà redatto il piano strategico territoriale del GAL Valle del Belice, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati del territorio in un soggetto giuridico denominato Club di Prodotto Terre della Valle del Belice. Il Club di Prodotto è un partenariato che coinvolge intanto i privati e poi abbiamo inserito in un altro percorso istituzionale quelli che sono gli enti locali. Si mira alla rinascita della Valle del Belice sotto il punto di vista turistico, abbracciando le attività tutte, dall'attività agricola all'attività turistica, facendo sistema e mettendola in rete.